Cari amici e cari amici, le elezioni europee sono ormai alle porte. La nostra differenza è da sempre il coinvolgimento diretto della nostra intera comunità e dobbiamo costruire insieme la casa del nostro programma europeo attraverso le proposte con cui poter cambiare l'Europa tutti insieme. Un mattone fondamentale deve arrivare dai più giovani. Il presente e il futuro devono essere fortemente nelle loro mani. I componenti del nostro network giovani e tutti gli iscritti Under36 sono infatti chiamati ad esprimere le proprie idee sui temi come lavoro, intelligenza artificiale, ambiente, diritti, innovazione, istruzione. Nei giorni scorsi voi che fate parte di questa comunità avete ricevuto un'email con le indicazioni per inviare i vostri contributi. Un altro importante mattone del programma lo devono portare i 25.000 iscritti ai nostri nuovi gruppi territoriali. Siete voi a toccare con mano ogni giorno i problemi dei quartieri, problemi infrastrutturali, i trasporti, sanità nelle vostre comunità locali. In queste ore i rappresentanti dei gruppi territoriali stanno ricevendo una mail contenente le modalità i tempi per inviare il contributo del proprio gruppo con un percorso che prevede il prezioso coinvolgimento anche dei nostri coordinatori. Le idee e le proposte dei gruppi territoriali del Movimento e dei giovani saranno importanti per integrare il lavoro sul programma svolto dai comitati politici, dai nostri gruppi parlamentari, sia in Italia che in Europa. Insomma impegniamoci tutti su questa grande sfida. Questo progetto dovrà coinvolgere l'intera comunità del Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi che ci accompagneranno alle elezioni. L'ultima parola su questo programma aspetta a voi, a voi tutti. Insieme possiamo fare la differenza.